Oras, situato a Motta di Livenza, vicino a Venezia, fornisce trattamenti ordinari e ambulatoriali per pazienti che necessitano di progetti riabilitativi per diverse disabilità, caratterizzate da un'elevata complessità ad elevate esigenze cliniche e infermieristiche. Negli anni l'ospedale ha avuto per circa un milione e mezzo di persone un ruolo di primo piano nella riabilitazione delle lesioni cardiovascolari, pneumologiche, neuromotorie, muscoloscheletriche, gravi cerebrolesioni e mielolesioni. Oras è un esempio virtuoso nel settore sanitario e un punto di riferimento strategico per utenti regionali e nazionali. I team multidisciplinari sviluppano programmi personalizzati e riabilitativi per aiutare i pazienti a stabilizzare le loro funzioni vitali compromesse e ad acquisire il miglior livello di autonomia, con l'obiettivo di integrarli nuovamente nelle loro famiglie e negli ambienti sociali e di lavoro. Gli ambienti di Orasa sono specificatamente progettati per una riabilitazione di eccellenza. L'ospedale ospita infatti 11 palestre, ognuna dedicata al trattamento di patologie specifiche e una piscina riabilitativa. Alcune palestre sono dotate di tecnologie e dispositivi speciali per il trattamento delle lesioni del midollo spinale. La palestra di terapia occupazionale aiuta i pazienti a riacquistare la loro autonomia per tornare alla loro vita quotidiana. Le palestre di riabilitazione cardiologica, pneumologica e vascolare sono state completamente rinnovate negli anni e dotate dei più recenti dispositivi medici. Innovazione, ricerca e rete internazionale. Questa è la strategia per conseguire l'eccellenza nella riabilitazione di alta specializzazione. Oras, we care.